Ambulanza contro Pullman in galleria, quattro morti in un inferno di fuoco Inseguimento e speronamento in largo Aldomoro, domiciliari per i due fuggitivi A Torraccia arriva la pista di ciclo rotellistica Asili, ecco l'aumento di contributi dalla regione Marche Monbaroccio ritrova lo storico Palazzo del Monte Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV 27 dicembre 2023 riparte la programmazione di Rossini News Riparte l'informazione del nostro telegiornale dopo la breve pausa legata alle festività natalizie Telegiornale che purtroppo dobbiamo aprire con una notizia terribile avvenuta questo pomeriggio Poco dopo le 15, un incidente mortale Ben 4 i decessi certificati in quello che è stato un sinistro stradale avvenuto all'interno della galleria Cagulino Nella stradale 73 fra i comuni di Urbino e Fermignano 4 dicevamo i morti in uno schianto avvenuto fra un'ambulanza della Croce Rossa proveniente da Fossombrone E' un pullman che trasportava anche una trentina di bambini fra i 3 e gli 8 anni Componenti di una gita proveniente da Grottamare A perdere la vita tutte e quattro le persone presenti a bordo dell'ambulanza Si tratterebbe di tre operatori dell'equipaggio della Potes Ovvero il medico, un infermiere, l'autista del mezzo oltre al ferito trasportato L'ambulanza era partita da Fossombrone e doveva raggiungere l'ospedale di Urbino Illesi invece i componenti del pullman E' stato un vero inferno di fuoco con una colonna di fuma alzatasi per diversi metri E visibile per chilometri Che ha chiamato a un intervento massiccio di vigili del fuoco ANAS, forze dell'ordine e bene tre e le ambulanze La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni Una notizia davvero tremenda di cui forniremo ulteriori dettagli Nei nostri prossimi spazi informativi Ancora cronaca ma torniamo su Pesaro E torniamo sull'episodio di venerdì scorso Quello dell'inseguimento della polizia ad un'auto di fuggitivi Auto che poi è stata speronata alle porte del centro storico di Pesaro In largo Aldomoro Torniamo a parlarne perché proprio ieri sono stati disposti Gli arresti domiciliari per i due giovani marocchini coinvolti nell'accaduto Convalidati gli arresti ma senza reclusione in carcere Il Tribunale di Pesaro ha disposto ieri la misura degli arresti domiciliari Con braccialetto elettronico per i due giovani marocchini Protagonisti venerdì scorso di un clamoroso inseguimento da parte della polizia Terminato con lo speronamento della volante Nei confronti della Fort Puma dei Fuggiaschi in largo Aldomoro Per Abder Leguris, 23enne domiciliato a Milano Scattano dunque gli arresti domiciliari a casa dei genitori che abitano nella provincia di Pesaro Urbino Il giovane marocchino ha ammesso il suo ruolo di corriere della droga nella circostanza Provando ad ammorbidire la testimonianza Dicendo come quella fosse la sua prima esperienza in questa tipologia criminale Dopo lo speronamento Leguris tentò di scappare a piedi con una borsa contenente 5 kg di hashish Ma venne placcato dall'intervento del 32enne Gianalberto Colini Mocchi Zamperoli Che in quel momento stava frequentando il vicino locale Zanzibar Arresti domiciliari anche per Khalil Oda, 25enne originario di Valdobbiadene Che sconterà i domiciliari nel Trevigiano Dopo che davanti al giudice ha negato ogni responsabilità Testimoniando di non essere a conoscenza della presenza dei 5 kg di stupefacente A bordo della Ford Puma Circostanza confermata dal compagno che avrebbe spiegato alla ragazza della droga Soltanto a fuga iniziata Amaro Natale per una famiglia pesarese in visita a Foggia Famiglia che dopo aver lasciato i doni per i figli e nipoti nelle auto parcheggiate nel box di famiglia Al momento di mettere i regali sotto l'albero alla vigilia di Natale Hanno scoperto che il box e le auto erano stati forzati e tutti i giocattoli erano stati derubati L'episodio ha coinvolto tre sorelle le quali pur vivendo a Pesaro Erano tornati in Puglia nella loro città natale per trascorrere le vacanze con il resto della famiglia La denuncia è stata depositata presso le forze di polizia e condivisa sui social diventando virale a livello nazionale Lasciamo la cronaca e ora parliamo di impianti sportivi a Pesaro Perché dopo ripetuti stop and go sta per finalmente vedere la luce L'attesa realizzazione della pista ciclorotellistica in zona torraccia di Pesaro Che diventerà un punto di riferimento cittadino e non solo per le attività di ciclismo e pattinaggio Questo è un impianto che abbiamo annunciato più volte perché ci sono stati diversi momenti di stop e ripartenza Ma questa è la partenza giusta È un impianto desiderato con una grande funzione sociale come è lo sport ma che permetterà a tanti giovani di potersi allenare in sicurezza È un impianto che mancava nella città dedicato alla parte ciclistica e alla parte rotellistica Ed è stato condiviso con le due federazioni Quindi è un impianto che sicuramente potrà ospitare competizioni di interesse nazionale Ma soprattutto darà una risposta a tanti giovani che si vogliono avvicinare o già praticano pattinaggio piuttosto che ciclismo È un percorso che nasce qualche tempo dietro anche con un finanziamento importante ottenuto dal comune Di 700 mila euro oltre al milione 3 che ha stanziato il comune di Pesaro per andare a realizzare un impianto sportivo importante Entro la seconda settimana di gennaio partiremo con la manifestazione di interesse Il tempo per la procedura di aspettamento della gara e arriveremo a marzo con la consegna e l'avvio dei lavori Andremo a realizzare come dicevo un 2,2 km di pista ciclistica immersa nel verde Quindi un impianto sportivo anche fortemente voluto dalle tante società sportive Ci saranno anche 700 metri di impianto per le rotelle, quindi per la rotellistica Anche questo era una progettualità che da tempo la città si aspettava E per il quale oggi siamo finalmente nella fase di dare il bio ai lavori Dopo una conferenza dei servizi che si è conclusa a fine luglio Che ha richiesto anche alcune rivisitazioni di quello che era il progetto È un'area diciamo non abbandonata, diciamo incolta Ma che sicuramente è un impianto che si inserisce in un contesto verde Ma che sicuramente permetterà di riqualificarlo Di mettere in sicurezza anche l'argino del fiume Quindi diciamo che avrà diverse funzioni Pista ciclorotellistica ma non solo Perché appena una manciata di chilometri È pronto invece a rinascere un altro impianto sportivo Parliamo del campo da calcio di Vismara devastato dall'alluvione dello scorso maggio E finalmente arrivano i fondi per ricostruirlo Regalo di fine anno per l'impianto sportivo peserese di Vismara Che vede la luce della rinascita dopo l'evento alluvionale dello scorso maggio Che vide esondare il vicino fosso della ranocchia Devastando il campo da calcio insintetico Che aveva appena una manciata di anni di vita Campo e strutture danneggiate che in primavera furono attenzionate Anche dai sopralluoghi post alluvione della protezione civile nazionale E che ora vede lo stanziamento di 700.000 euro da parte del comune di Pesaro L'amministrazione si è infatti aggiudicata a 440.000 euro del bando sport e periferie Ai quali si aggiungono 260.000 euro di cofinanziamento del comune Una cifra che consentirà di rifare il campo da calcio a 11 Quello da calcio a 5, installare pannelli fotovoltaici E completare altri interventi di efficientamento energetico Di fatto riqualificando tutto l'impianto di Via Liri Ad un livello di sostenibilità superiore al precedente Un'ottima notizia per la società Vismara Che in questa stagione è stata costretta a traslocare E sobbarcarsi i costi d'affitto aggiuntivi Per trovare sistemazione a prima squadra E agli oltre 200 ragazzi del settore giovanile Lo stanziamento comunale è arrivato a pochi giorni di distanza Da una frenata in consiglio regionale Verso la possibilità di contributi in tal senso L'assessore comunale di Pesaro Camilla Murge La consigliera regionale Micaela Vitri Annunciano come la regione Marche Abbia finalmente accolto le richieste di contributi aggiuntivi Destinati ai servizi educativi Nella fascia 0-6 anni per i comuni Dopo oltre un anno di solleciti Sono infatti in arrivo 3 milioni di euro Per i nidi di infanzia di tutte le Marche Come annunciato dall'assessore regionale all'istruzione Chiara Biondi Nel 2024 la regione Marche infatti aumenterà tramite i fondi Feser dal 25 al 50% La compartecipazione ai fondi nazionali Erogati dal Ministero per supportare i comuni nella fascia 0-6 anni A Palazzo Ducale di Pesaro si è tenuto oggi il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica Presieduto dal prefetto Emanuela Saveria Greco L'incontro è servito a condividere l'impianto di sicurezza che sarà attuato dalle forze di polizia Durante il Capodanno in Piazza del Popolo Verrà infatti potenziata l'azione di vigilanza e controllo dei flussi degli avventori in entrata e in uscita Nell'occasione del Cater Capodanno infatti l'accesso in Piazza del Popolo Sarà consentito unicamente da Via Branca e da Via San Francesco Mentre le vie di Esodo saranno Via Rossini, Corso 11 settembre, Via Baviera e Via Giordano Bruno Ieri 26 dicembre ha spento 100 candeline Agostino Ercolessi Esemplare uomo di scuole e di sport Tino Ercolessi ha celebrato nel giorno di Santo Stefano il suo centesimo compleanno circondato dagli affetti dei suoi familiari Ercolessi fu azzurro di atletica, vincitore di titoli nazionali nell'immediato dopo guerra Ma fu anche una figura poliedrica dello sport capace di spaziare anche a basket e nuoto Fu professore di educazione fisica, maestro e dirigente scolastico per generazioni di pesaresi Invece si è tenuto oggi nel Duomo di Pesaro il funerale del dottor Ernesto Gentile Medico stimatissimo in città che per decenni ha diretto il reparto di Otorino la ringoiatria dell'ospedale San Salvatore di Pesaro Gentile aveva 70 anni e si è spento la vigilia di Natale in seguito a complicazioni polmonari con cui conviveva da anni E c'è stato invece uno splendido regalo di Natale per la comunità di Monbaroccio Che dopo lunghi lavori di riqualificazione ha visto riaprire le porte finalmente del suo storico Palazzo del Monte Abbiamo lavorato sin dall'inizio del nostro mandato affinché questo palazzo fosse restituito alla cittadinanza La comunità monbaroccese prima della fine del nostro mandato Abbiamo scelto la data di Natale con lavori che abbiamo fatto ovviamente anche in maniera molto celere Specialmente nell'ultimo periodo in modo tale che fosse l'ultimo regalo che potessimo dare come amministrazione comunale Entro l'anno alla nostra comunità Un valore aggiunto che torna a brillare di luce propria Che mettiamo a disposizione per Cultura 2024 Sarà oggetto di intervento per tutte quelle che saranno le attività culturali che promuoveremo come Monbaroccio Nel percorso del 2024 quale Pesaro città della cultura E quali settimane che riguarderanno Monbaroccio in questo percorso Un percorso che ci ha visto coinvolti fin dall'inizio Proprio perché credevamo che con la cultura si potesse dare il valore aggiunto a un territorio meraviglioso Col piacere e l'onore di amministrare ormai da 4 anni e mezzo E non potevo vedere che questo palazzo che ha alle nostre spalle potesse rimanere chiuso A fronte di un percorso forse un po' troppo rapido nella sua valutazione per Italia Voglio usare questo termine E che ha visto come amministrazione intervenire per 650 mila euro di interventi mirati all'antisismica Quindi un miglioramento sismico che ci permette di calpestare il palazzo in ogni dove Se aggiungiamo a questi 650 mila euro Il ribasso di un 30% vuol dire che abbiamo fatto lavori per oltre 800 mila euro A questi si aggiungono progetti che subito abbiamo portato avanti 58 mila euro di progetto preliminare, 125 mila euro di definitivo esecutivo Per ridare a Monbaroccio una luce che questo palazzo permette di avere E quindi un luogo, un ritrovo culturale che può diventare luogo di studio, luogo di eventi Luogo di promozione economica e soprattutto turistica È un palazzo che doveva assolutamente essere riaperto perché è un pezzo di storia di Monbaroccio È il palazzo nel quale è vissuto Guido Baldo del Monte Che era un insigne matematico, filosofo, scienziato Ed era anche il mentore di Galileo Galilei E in questo momento posso dire che stiamo respirando la stessa aria che ha respirato anche Galileo Perché è stato qui, almeno questo risulta da alcune epistole che abbiamo studiato C'è stato uno scambio fitto di epistole tra Galileo e Guido Baldo E pare che Galileo abbia poggiato i piedi dove siamo noi adesso Fece tantissimo per Monbaroccio Pensiamo alla corrispondenza con Galileo Galilei Il museo scientifico, la leva, la carrucola Si parla anche dell'orologeria Un percorso che questo matematico, filosofo, scienziato Ha fatto sì che Monbaroccio potesse veramente essere valorizzato Sotto caratteristiche culturali e scientifiche che sono quasi uniche nel suo genere C'è dell'altro che proveremo a proporre nel 2024 C'è un percorso legato all'orologeria di Guido Baldo del Monte Vuol dire che qui si stava studiando il tempo Come organizzare il tempo Come creare i primi orologi Ed è un valore aggiunto Pensate cosa possa voler dire Aver la consapevolezza del tempo Studiare il tempo e capire per esempio in mare Quando dover uscire a quella determinata ora E quando dover rientrare C'è una corrispondenza enorme con Urbino da questo punto di vista Con i della Rovere fra Guido Baldo Proprio perché c'è una sinergia enorme di storia e scienza Che mi riempie di orgoglio perché abbiamo il dovere Sia di evidenziare ma soprattutto di valorizzare Fine dicembre tempo di calendari E come ogni anno L'azienda di detergenti del Monte Feltro Midor valorizza attraverso gli scatti di 12 mesi Uno dei nostri territori provinciali Una scelta che per il 2024 È ricaduta quasi fatalmente sul comune di Pesaro Prossima capitale della cultura Bella e chieta questa città Stesa come un gran passà Abbraccio aperto tra le colline Morbido come tanto cusci La iepare innamorata d'esta piazza D'esta strada Un abbraccio definitivo Da sentire ardente e vivo Ma che me avvederò Che sta bene un gran bel po' È una poesia di Carlo Pagnini A diventare la didascalia di copertina Del calendario Midor 2024 Calendario che ogni anno La storica azienda di detergenti del Monte Feltro Dedica ad un comune della provincia di Pesaro Albino Scelta che per il 2024 È ricaduta quasi fatalmente su Pesaro Che si appresta a vivere il suo anno Da capitale della cultura Anche attraverso i 12 scatti di Midor Che ricalcano appieno il tema Della natura della cultura Il calendario è nato È nato principalmente da un'idea così per caso Perché il volume zero Che hanno visto solo i nostri clienti Era nato dove su ogni mese C'era una città della provincia di Pesaro Urbino Però su 12 mesi queste città non bastavano Perché la provincia di Pesaro Urbino Ha tantissimi comuni E quindi ho pensato Come posso fare per valorizzarli tutti L'unico modo era Di dare spazio ogni anno ad un comune Quindi siamo partiti con Fermignano Poi Urbino, Urbagna E quest'anno futuro Che sarà il 2024 Ci siamo diretti qui a Pesaro Capitale della cultura Quindi con l'ok del comune Il patrocinio Il dottor Vimini Che ringrazio tanto Perché è stato gentilissimo Abbiamo visto tutto il progetto Pesaro capitale della cultura Ci illumina tanto E anche noi Con la nostra igiene Proponiamo la cultura del pulito Quindi aderiamo volontieri A questo circuito Siamo anche noi Il culto del pulito Iniziavamo a essere un po' gelosi Perché sono calendari bellissimi Che hanno raccontato Scorci molto suggestivi Della nostra provincia Anno per anno Ed è bella la scelta Di far coincidere Con Pesaro Capitale della cultura Anche la scelta Di dedicare appunto Il calendario A Pesaro È una bella operazione Un bel progetto Tra l'altro Che abbiamo seguito Passo passo Perché poi L'azienda ci ha coinvolto Dall'inizio Anche nella scelta Delle immagini Nel tipo di racconto Che va a raffiancare Quello della natura Della cultura E quello appunto Di una città Che vuole raccontarsi Tra l'altro Nella sua prospettiva Anche L'intera provincia Nella Nella capitale 24 Quindi Diciamo Il calendario Midor Accompagna sempre Hanno delle imprese Che lo tengono da loro Piuttosto che le case I bari I locali E quest'anno Accompagnerà anche Lo scandire del tempo Della capitale Che sta per iniziare Da un quarto di secolo Premi agli studenti Della provincia Di Pesaro Urbino Che ottengono Risultati scolastici Di rilievo Nonostante afflizioni Di natura neurologica Parliamo Della fondazione Filippo Fattori E del suo Tradizionale Premio annuale Anche per il 2024 La fondazione Filippo Fattori E' pronta A conferire Premi e riconoscimenti Agli studenti Delle scuole Di primo e secondo grado Della nostra provincia Che seppur portatori Di distrofia O altre affezioni Di natura neurologica Hanno frequentato Con profitto E voti incomiabili Le lezioni Dell'anno scolastico Passato Quest'anno La fondazione Ha espletato Il 25esimo premio Cioè Sono 25 anni Che noi premiamo Gli studenti Di questa provincia Mediamente Arrivano Da 70 A 100 domande Tutti gli anni E di queste 60 Fatto una selezione Che dipende Dai vari problemi Di cui sono portatori Ne premiamo Da 50 A 60 Quest'anno Le domande Pervenute Sono solo 56 Per loro Fortuna Sono stati premiati Quindi tutti 56 Però Ci deve essere Un problema Nella comunicazione Perché Non riteniamo Ragionevole Che in tutta la provincia Ci sono solo 56 ragazzi Che hanno questi problemi Evidentemente Le famiglie Non ricevono Le informazioni Gli insegnanti Di sostegno Non lo segnalano Non so chi Il provvizionato Però manda gli avvisi La stampa lo fa Il nostro sito In quello Nel sito Si può vedere Tutte le informazioni Che servono Si vada nel sito Che è www.fondazionefilippofrattori.it Dove ci sarà Anche il bando Dettagliato Con tutto quello Che occorre Per quello Che sarà Il 26 Premio Dell'anno 2024 E concludiamo Con lo sport Perché nel giorno Di Santo Stefano È scesa in campo Ieri La Megabox Vallefoglia Che ha ottenuto A Roma Una preziosa vittoria Al tie-break Che vendica La beffarda Sconfitta Dell'andata E riporta Le tigre In zona play-off Ovvero Al settimo posto Appaiate Proprio a Roma Partita infinita Con Vallefoglia Che vince I primi 2-7 35-37 E 18-25 Per poi Farsi rimontare Con un 25-16 E 25-17 Senza storia Invece Il tie-break Con la Megabox Che vince Con un netto 15-4 Notizia importante Anche per l'Ital Service Perché il mercoledì È la serata Degli occhi della tigre Il nostro focus D'approfondimento Sulle ragazze Della Megabox Vallefoglia Appuntamento Alle 21-20 Nell'occasione Conosceremo Meglio La schiacciatrice Alice De Gradi Gli occhi della tigre Questa sera Alle 21-20 Dallo sport Alla musica Quella del concerto Integrale Note di Natale Del coro Del grillo d'oro E di ex novo Coro urbano Vi mostreremo Questa sera Questa performance musicale Con la partecipazione Della scuola di musica Free Music Foundation Come detto Appuntamento Alle 21-30 E poi vi ricordo Che l'informazione Su Rossini TV Torna puntuale Domattina in diretta Alle 7-20 Con Buongiorno Rossini La nostra segna stampa Dei quotidiani locali Che in questo giovedì Sarà condotta Dal nostro Antonio Astuti Si conclude qui invece L'informazione Di Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata E buone festività In compagnia Dei nostri programmi